L'abbondante pioggia di oggi, non un evento meteorologico sporadico, nell'ultimo periodo ha creato e sta creando problemi all'intera area antistante la scuola per l'infanzia a San Lorenzo in via Colombo a Montevarchi. La traversa di via Vespucci infatti presenta un parcheggio in sterrato che è tutt'altro che uniforme e soprattutto nel quale l'acqua piovana ristagna creando pozze di dimensioni e profondità ben oltre il sopportabile, come denunciano insegnanti e genitori che accompagnano qui i piccoli studenti. Fa niente che ormai la scuola sia agli sgoccioli perché il problema persiste anche per tutte le auto in sosta. Più volte segnalata la questione all'ufficio tecnico comunale, quest'ultimo sta avviando procedure diverse dalla banale reimmissione di Ciottoli per creare un fondo lineare. Di certo lo spettacolo è piuttosto avvilente, le immagini parlano da sole, persino per raggiungere i cassonetti per il differenziato ci sono problemi di percorrenza. Insomma serve una soluzione quanto mai rapida, chiesta anche dai molti residenti della zona a sud del centro cittadino.